ciao a tutte e benvenute in un nuovo video come promesso vi rifaccio il tour della mia camera in quanto ho cambiato un pochino di cose che adesso man mano vi spiegherò allora io adesso sono appunto all'entrata passiamo anzi iniziamo con la mia postazione smalti che comunque ve la prof ve la approfondirò in un altro video allora come vedete ho uno specchio appunto dove dentro tutte quante le cose per le nail art qui ho i glitterini che rimosserò questa qua è una scatoletta adesso vuota qua sopra ho delle foto delle altre foto questo quale me l'hanno regalato al mio diciottesimo compleanno ed è davvero molto molto bello ho il gatto allora qui ho tutti quanti i miei smalti e attualmente c'è anche un cuscino e la televisione che poi vi spiegherò il perché sopra quest'altra mensola o delle altre foto qui ho un quadretto che mi ha regalato il mio ragazzo qua invece ho vari cassettini ma ci sono le solite cosine e poi invece ho su questi qua sono i matitoni di tutti i posti che sono stata o che comunque mi hanno regalato ho la croazia la spagna pisa e la costa azzurra e altri questa qua invece è una cassettina che era di mia mamma che adesso è diventata mia che ho un po di bigiotteria invece passando di qua allora qui ho ho la la scarpiera come avevo detto nell'altro video questa scarpiera si poteva fare anche in vetro quindi con lo specchio però costava troppo e mia mamma ha deciso di farla così abbinata comunque con la camera perché appunto la camera è bianca questo verdino qui qui invece ho una nanta diciamo qua sopra posso scriverci col penarello e poi viene via tranquillamente allora sono riuscita più o meno a sistemare allora questa qui è una scatola con varie creme ho una crema a mani un po di creme per il sole dopo sole qua invece allora qua sopra questa qui è il cassettino dove ho un po di trucchi che vi ho mostrato nel video appunto dei miei trucchi qui ho degli elastici mollettine e robe così e qua invece ho dei campioncini di che mi hanno dato dal dentista ho appunto allora va bene queste qui ho dei campioncini di come si chiamano ho dei campioncini di dentifrici tutti colgate tra l'altro vabbè e una spazzola un pettine poi qui ho vari prodotti perché sono presentatrice invece qui allora questo qui è il tripiede qua ha vari sacchettini quando di solito vendo le cose poi li metto dentro i sacchettini questo qui è sono degli sticker di natale una spazzola e varie cosine qui sotto invece ho tutto quello che riguarda semi permanente quindi la lampada la lampada il fornellino e un po di semi permanenti delle lime che vi mostrerò appunto nel prossimo video e una questa qui è una piastra una mini quella per lisciare i capelli qui invece ho un piccolo cassettino allora qui sopra io di solito alla mattina mi metto le cose anzi alla sera mi preparo le cose per la mattina successiva per il vestirmi adesso ci sono i pantaloni del pigiama allora qui sopra ho varie cosine questa qui è una maglietta che avevo attaccato dietro alla mia macchina appena presa la patente poi ho una calcolatrice e queste qua sono vuote qui invece ho trucchi sotto delle auricolari e un joystick nell'ultimo cassetto invece ho un po di cover e i cerottini per l'herpes come vedete il letto nuovo mi è arrivato è una piazza in mezza e occupa logicamente più posto di prima ed è per questo motivo che adesso la mia tv è lì sopra però quando la utilizzo la sposto di qua intanto la sistemazione è questa poi magari penserò a come cambiarla nuovamente qui invece ho il comodino ecco allora qui ho il comodino la mia sveglia dei fazzoletti e un libro che sto leggendo questo qua è il terzo volume di After l'ho quasi finito e poi inizierò al quarto mi piace tantissimo la lampada un quadretto che mi ha regalato il mio ragazzo un portagioie, vari peluche anche qua sopra ho altri peluche la collezione di After ho l'uno, il due e il quattro perché il terzo appunto lo sto leggendo e vari altri libri di qua invece ho l'armadio che l'altra volta non vi avevo fatto vedere perché era un po' tanto in disordine ah, mi sono dimenticata il cassettino qui sotto allora dentro questa scatolina ho tutti quanti i campioncini da dare alle mie clienti nel primo cassetto ho una calcolatrice telecomando e una soviettina per pulire gli occhiali qui invece ho gli album e un libretto dove scrivo un po' di cose insomma e qui un album con pochissime foto dentro la custodia dell'iPad e il coso per le unghie ma è vecchio vecchio avrà dieci anni se non di più infatti non era mio, era di mia mamma suppongo il mio armadio allora come vedete appunto è ad angolo qui allora qua sopra ho le scatole adesso del periodo estivo qua un po' di coperte invernali come vedete queste qua le ho tutte quante cucite mia nonna e la mia bisnonna qui ho gli asciugamani qui sotto invece ho un po' di misto nel senso che in teoria qua sarebbero i pantaloni in teoria qui un po' di camice un po' di felpe qua ci sarebbero anche le giacche però come vi ho detto ho anche una giacca di qua vabbè sotto qui invece ho un un come si chiama? un bauletto dove ho dentro un po' di di cose messe un po' così diciamola la verità poi qua ho attaccata una una medaglia di un torneo che avevo partecipato come sfilata qua dentro invece un po' di scartoffie delle canuttiere un po' di leggings e vari pigiami tra virgolette maglie con cui dormo qua sotto invece sono i cassetti ho mutande e reggiseni insomma un po' di intimo di qua invece allora qua sopra ho una serie di giubini invernali certi che metto certi no insomma un po' così varie felpe magliette sciarpe sciarpe guanti e anche un cappello questa qui è una scatola dove ho un po' di misto dentro e qui invece è la borsa con cui vado a craft maga qua un po' di borse buttate lì vabbè e qua dentro ho un po' di zaini altre borse così nel frattempo il gatto sta ancora cercando la mosca è a caccia poverino vabbè questo qua è un lampione qua ho lo specchio dove c'è anche scritto il mio nome è ancora della nutella e basta dovrei avervi spiegato tutto quello lì è un orologio che mi ha regalato sempre il mio ragazzo che però è fermo perché manca la batteria devo ancora cambiarla un po' di foto con miei nonni con Mattia ecco questa qui è la mia stanza spero vi piaccia e appunto come vi avevo spiegato per i zaini smalti che farò in collaborazione con una ragazza che ancora non vi svelerò il nome sarà una sorpresa dove appunto comunque vi spiegherò vi farò vedere quello che ho dentro l'armadietto vi parlerò dei miei smalti e parlerò anche del semi permanente un po' di smalti che ho del semi permanente e basta un bacione a tutte ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti